Inaugurata questa mattina all'Aquila, in via Leonardo da Vinci, la casa della cooperazione di Lega Coppa Abruzzo, un luogo dove incontrarsi per contribuire alla ricostruzione del tessuto sociale del territorio aquilano. Oggi finalmente Lega Coppa Abruzzo torna qui all'Aquila con la sede della chiamata anche casa della cooperazione in Abruzzo. Dal prossimo anno ci sarà anche l'ACI, che è l'alleanza dei cooperativi italiani, per cui questa struttura potrà essere utilizzata da tutte le cooperative e quindi anche da quelle aderenti a Conf Cooperative e all'AggC. Questa struttura sarà gestita da una nuova cooperativa, una start-up appena nata di giovani, cooperativa di giovani, che offriranno la loro professionalità nell'ambito della sicurezza sul lavoro, della formazione e di assistenza alla neonatrice. vuole essere in altri termini un luogo dove si possono confrontare idee per lo sviluppo, per la possibilità occupazionale dei giovani, ma non solo dei giovani, insomma per rilanciare il territorio dell'Aquila verso una nuova linea basata sull'occupazione. Noi di Lega cercheremo in questa fase di favorire anche le possibilità con le banche, con attivare un po' l'area, una specie di rete, un sistema dove chi è smarrito nella difficoltà di trovare lavoro possa cercare attraverso la cooperazione un momento di occuparsi e occupare un po' le idee per il prossimo futuro.